E' cominciato tutto il 17 gennaio quando il cedimento della scarpata di sinistra, il cui terreno ha invaso l'intera carreggiata e lo scioglimento delle nevi dopo causando lo scivolamento della scarpata di valle, portò alla decisione di chiudere il traffico sulla strada provinciale 20. Finalmente, dopo otto mesi, potranno cominciare i lavori per la riapertura della strada provinciale che collega Pianella all'Oreta Prutino in contrada cartiera. Il 20 settembre, infatti, è stata approvata la perizia per lavori urgenti che consente il parziale ripristino della transettabilità su una delle arterie più importanti che collega Pianella con i centri dell'area vestina, che quotidianamente viene utilizzata dai lavoratori e studenti che raggiungono i centri della Val Pescara e Chieti. L'importo dell'intervento ammonta circa 83.000 euro e prevede l'installazione di un impianto semaforico da parte del Comune di Pianella, che nel contempo permetterà di eseguire lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte attraverso il rafforzamento della palificata esistente con una gabbionata per poi ricostruire scarpata stradale compromessa. Questo primo intervento, commenta il presidente della provincia di Marco, consentirà di tamponare le situazioni ristabilendo il transito in sicurezza dei veicoli, ma successivamente si interverrà in modo definitivo sul fronte di valle per un ammontare di circa 550.000 euro, grazie a un finanziamento della regione Abruzzo destinato alla messa in sicurezza di questa strada e della provinciale 44 tra Scafa e Cepagatti. Non tarda ad arrivare la replica dei consiglieri di Forze di Libertà, che accusano il presidente della provincia di inefficienza. Nove mesi di attesa e disagi sono passati per poi ripristinare l'uso della strada con le modalità che noi stessi avevamo già suggerito alcuni mesi dopo. È inaccettabile che migliaia di cittadini dell'area vestina paghino sulla propria pelle la totale incapacità di affrontare adeguatamente i problemi e trovare tempestive soluzioni.